Ok Joke, sei in onda! Ragazzi vi lancio una nuova sfida prima di continuare, se riusciamo a raggiungere i 200 like, io mi rendo conto che sono tantissimi ma so che ce la possiamo fare, se raggiungiamo i 200 like ragazzi faremo un nuovo video dedicato solo ed esclusivamente al contenuto di tutte le collector series che ho, perché anche nel video dei giochi PS3 raga non vi ho mostrato i contenuti delle collectors ma ve le ho fatte vedere solo da fuori ovviamente per evitare di perdere troppo tempo. E oggi farò lo stesso ovviamente, per cui se siete curiosi di vedere ragazzi collectors per collectors il contenuto di queste edizioni speciali vediamo di raggiungere i 200 like. Quindi a parte tutto eccoci qua, devo dire comunque di potermi ritenere veramente molto soddisfatta della collection che sono riuscita a farmi fino ad ora, ho veramente un certo numero di giochi, per quanto purtroppo io non li abbia giocati tutti, anzi ne ho giocati veramente pochi. Perché ragazzi purtroppo io la PS4 l'ho comprata nel 2016, quindi sarebbe a dire appena 4 anni fa e negli ultimi 4 anni purtroppo non ho veramente avuto molto tempo da dedicare alla mia passione per i videogiochi. Cosa la quale mi dispiace moltissimo però sapete com'è la vita raga, quando si si avvicina ai 30 anni aumentano le responsabilità, gli impegni, i pensieri eccetera. Quindi magari queste passioni vengono un pelinino accantonate, ma a parte tutto ragazzi PS4 è una console che devo dire mi ha dato grandi, veramente grandi soddisfazioni. Avrete capito quindi che io non l'ho acquistata a lancio, l'ho acquistata nel 2016 per il mio 25esimo compleanno, è stato un regalo da parte di mia mamma, quindi questo ovviamente le dà un significato ragazzi emotivo ancora maggiore. Pochi mesi dopo è uscita PS4 Pro, Pro, Slim, sono dettagli insomma giù i cristoni però vabbè. Una console quindi su cui veramente ho vissuto delle belle esperienze come è successo comunque anche per le altre ragazzi di Playstation, Sony We Love You. Bando alle ciancia, vi dicevo poc'anzi la maggior parte purtroppo di questi giochi non li ho giocati, quindi non posso darvi pareri mie personali. Su quelli che ho giocato ovviamente magari ci spenderemo qualche parolina di più. Allora, le prime ragazzi cose che vi mostrerò saranno appunto le Collectors perché non ci soffermeremo su di loro. E la prima, eccola qua ragazzi, ammazza quanto cacchio pesano. La Collectors Edition appunto di Ni No Kuni, Revenant Kingdom, è la King's Edition ragazzi potete ben vedere quanta è grossa. L'ho presa anche questa se non sbaglio non vorrei di una cazzata per un compleanno tra l'altro, forse un compleanno di un paio d'anni fa. L'ho presa in Spagna anche questa, però sti cazzi ragazzi perché ovviamente il gioco è multilingua, quindi tra l'altro l'ho pagata che erano tipo 90 euro, non era manco a prezzo pieno perché forse era uno degli ultimi pezzi nel Fnac. E te l'ho fatta comprare io! Caro Fnac ti ricordo con tanto amore. Dopodiché, passiamo alla seconda ragazzi. Quella di The Last Guardian, non so manco se riuscirà a mettere tanto a fuoco perché... Vabbè, la scritta si vede. La scatola è bianca. Questa qua ragazzi l'ho comprata qua in Italia dal sito GameStop perché era in offerta ragazzi a 30 euro. Io non mi ricordo se erano 30 o 40 euro, comunque un prezzo veramente ridicolo. Io non appena l'ho visto ovviamente l'ho dovuto comprare. Per fortuna comunque che è arrivata abbastanza integra, diciamo sarà stato ragà qualche rimanenza di qualche negozio. Infatti come potete vedere non è proprio immacolata, però sti cazzi è arrivata in condizioni abbastanza buone. Sono stata contenta comunque per il prezzo, ovviamente perché sti affari non si possono far scappare. Poi ultima, ma non meno importante, pesa ancora di più ragazzi perché pesa vi giuro tantissimo. Ed è la Collector's Edition di Overwatch. Anche questa acquistata al sacrosanto Fnac. Anche questa è in offerta, l'ho presa che erano tipo 80 euro credo, 80-85 euro. Era in offerta pure quello uno degli ultimi pezzi molto probabilmente, anzi forse era l'ultimo. Purtroppo il cartonato di fuori non è immacolato, anche in questo caso masticarsi perché comunque la Collector's ragazzi sta sotto ovviamente. Però non mi soffermo oltre perché se siete curiosi e volete insomma ravanare all'interno di queste Collector's Edition vi ricordo raggiungiamo i 200 like ragazzi. E io farò un video spettacolare facendovi vedere singolarmente ogni cacchio di contenuto di queste Collector's Edition. Non solo di quelle PS4 però attenzione sotto il mio amo, di tutte le mie Collector's Edition quindi comprese quelle per PS3. Più un'altra che ho preso per PC perché era in offerta che non vi ho fatto vedere fino ad ora. Quindi anche lì sorpresona ragazzi. Mistero. Sfondate di like ragazzi sto video. Per cui adesso mettiamo da parte le Collector's per quanto ci dispiaccia. Guardate che belle tutte e tre. Quanto so belle ragazzi quanto so belle. Sulla scia delle Collector's ragazzi ci spostiamo sulle edizioni speciali. Quindi lasciamo per ultime le standard ok perché qua sono le cose, i piatti ricchi. Allora le steelbook ragazzi le lascio per dopo le special edition e andiamo a vedere queste special edition ragazzi. Allora la prima è l'edizione special appunto dell'Ombra della Guerra, la Terra di Mezzo. Contiene appunto sia il gioco che una riproduzione dell'Annello del Potere. Adesso regà non ve lo sto ad aprire. Nel video parlo con l'Electro's Edition. E magari vi faccio vedere anche i contenuti delle special perché no se l'idea vi piace ovviamente. Qualche chicchetta. Ecco fatecelo sapere regà in commento. Quindi è stato un regalo. Dopodiché andiamo avanti. Allora questa non so se si può proprio definire special edition regà di Doom. Ok? È il Doom del 2016. Contiene ragazzi sia il gioco che il manuale della WAC più un poster più qualche adesivo o roba del genere. Quindi non ha steelbook all'interno purtroppo. Però l'avevo pagata 20 euro quindi sti grazie l'ho presa con molto piacere. Per quanto io purtroppo il gioco l'abbia iniziato ma non l'abbia mai finito. La limited edition ragazzi di Black Set Under the Skin. Questo è del 2019 tra l'altro. Quindi appena dell'anno scorso. Come potete ben notare regà non lo manco mai aperto. Il contenuto riguarda appunto il gioco. Però non in steelbook purtroppo. Più altre robe che magari vi faremo vedere. Se avrò voglia di aprirlo. Gioco quindi ragazzi tratto da un fumetto che forse qualcuno di voi anche conoscerà che comunque è abbastanza famoso. Che è appunto lo stesso Black Set. Di cui noi abbiamo tutta la collezione abbiamo adorato. Ci è piaciuto veramente tantissimo. Quindi l'ho preso. Quell'offerta regà del GameStop prendi due e quello che costa meno lo paghi 5 euro. Era una roba del genere. Siccome ci è piaciuto Black Set l'ho voluto comunque comprare. Aprivo una parentesi. Volendo più avanti si potrebbe fare pure la collezione dei fumetti. Fugace fugace. Si potrebbe anche fare. Chi lo sa. Lo deciderete voi. Come poteva mancare una limited edition ovviamente di Life is Strange nella mia collezione. Si tratta di Life is Strange before the storm. Ragazzi ma sti gran cazzi non ci crederete. Ho questa limited edition. Ho pagata 20 euro. Come potevo lasciarla lì. Come potevo lasciarla lì. L'ho comprata dopo tra l'altro che io ho già fatto la serie sul canale. Quindi questo vi fa capire quanto ci ho tenuto regà a questa serie. Anche questa regà c'ha vari contenuti. Che però io sinceramente regà quelle che ho in celofanate non ci terrei ad aprirle. Se parliamo proprio di collezionismo le dovrei lasciare così. Quindi di questa forse non vedrete il contenuto ragazzi. Però c'ha artbook. C'ha la colonna sonora. C'ha tra l'altro una cassetta se non sbaglio. Proprio in formato fisico. Cioè regà comunque per il contenuto. Che ha io direi che 20 euro. Sono stati veramente un ottimo prezzo. Non mi fermo regà a parlare di Life is Strange before the Storm. Perché avete guardato la mia serie. Quindi sapete ovviamente che cosa ne penso. Andiamo avanti. Qua roba un pelino più forse più succosa ragazzi. Allora limited edition di Uncharted 4. Che io tra l'altro ho acquistato qui in Italia. A GameStop ragazzi. Vero che è usata però direi che è tenuta veramente come nuova. A 20 euro ragazzi anche questa. Come potevo lasciarla lì. Come potevo lasciarla lì. Anche perché il gioco Uncharted 4 tu già ce l'avevi. Io già lo avevo giocato ragazzi. Perché sapete benissimo che Uncharted 4 era uscito in bundle con la Playstation. Quando l'ho comprata. Quindi io già l'avevo giocato e l'avevo finito. Però non potevo lasciarla lì. Scusate ragazzi il concetto è sempre quello. Cioè per 20 euro contiene regà la steelbook. Contiene l'artbook. Avrebbero dovuto esserci anche degli adesivi. Che però purtroppo il vecchio proprietario non ha lasciato. Quindi non è completa. Però sti cazzi ragazzi è bellissima. Uncharted 4 lo sapete insomma benissimo. Mi è piaciuto da morire ragazzi. Quindi tutta la serie di Uncharted. Quindi non potevo lasciarlo lì. Edizione speciale di Marvel Spider-Man. Edizione straordinaria. Questa l'ho comprata in Spagna. Contiene l'artbook. Contiene la steelbook anche. Che noi non faremo vedere. Che noi non faremo vedere. Non faremo vedere. E tra l'altro ragazzi questa io l'ho comprata quando Spider-Man era uscito veramente da poco. E l'ho pagata a 70 euro. Quindi era uguale al prezzo della standard. Marvel Spider-Man ragazzi l'ho iniziato sì. Mi stava piacendo sì tantissimo. Tra l'altro anzi io ci avevo iniziato la serie sul canale Rega ma ho dovuto abbandonare. Perché essendo un'edizione spagnola non aveva la lingua italiana. Grazie Spagna che non fai giochi multilingua quando te va. L'ho continuato per conto mio sì. Mi stava piacendo tantissimo sì. Non l'ho mai finito. Questa secondo me è una piccola chicchetta ragazzi. Perché appunto la sim è diciamo Collector's Edition di Little Nightmares. La 6th Edition. E l'ho comprata sempre al santo Fnac. Santo Subito. A 20 euro rega. Cioè io vi rendete conto degli affaroni che ho fatto in vita mia? Sììì. L'ho pagata solo 20 euro ragazzi. Non potevo lasciarla lì. Io avevo già giocato il gioco tra l'altro. Perché ce l'avevo fatto alla serie sul canale. L'ho comprata lo stesso rega. Non la aprirò ragazzi. Perché ovviamente è in celofanata. C'è il gioco. C'è un fumetto mi sembra di capire. Ovviamente la figura. I 6th. E anche degli adesivi. Più tra l'altro la colonna sonora rega. C'è un affarone a 20 euro. Sapete poi benissimo rega quanto mi sia piaciuto Little Nightmares come gioco. L'ho adorato. Mi è piaciuto tantissimo. Se vi state chiedendo se porterò il 2. Sì. Ultima ma non meno importante ragazzi. La Deluxe Edition di Kingdom Hearts 3. Ovviamente non me potevo far mancare. L'ho comprata a lancio. L'ho pagata rega la bellezza di 90 euro. Tra l'altro. Anzi io l'ho pagata di più. Perché io me la son fatta arrivare dall'Italia ragazzi. Quando ero ancora in Spagna. Onde evitare il problema della lingua. Contiene comunque steelbook, artbook, spilla esclusiva. Questa ve la potrò far vedere ragazzi. Perché è aperta ovviamente. E attorno rega a questa Deluxe Edition c'è stata tutta un'epopea allucinante. Che magari vi racconterò nel video specifico. Se ho giocato Kingdom Hearts 3. Sì. Sono rimasta un po' delusa. Sì. Sì. Purtroppo. Però magari ne parleremo più nello specifico. Se no rega veramente sto video dura tre ore. Ho 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 ho. Dopo aver guardato ragazzi le Special Edition. Passiamo alle steelbook. Voi dovete sapere. No non la finiamo più. No no no. Io avrei una sorta di fissazioncina con le steelbook. Però purtroppo ne ho molto poche. Se avete steelbook da consigliarmi. Che si trovano di giochi verso le steelbook. Che costano poco. Consigliate. Vediamo un po'. Qua ragazzi. Vabbè. C'è quella di Overwatch. Che ovviamente era inclusa nella Collector's Edition. Quindi insomma. Ma già ve l'ho fatta vedere. E' così. E' molto semplice. Però rega me le steelbook piacciono da morire. Anche nella loro semplicità. Quindi. E' figa comunque. Dopodiché. 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 Per gli amanti. Attenzione. Della saga Final Fantasy. Ragazzi. Questa è appunto definita una limited edition. Di Final Fantasy X e XII Remastered. Ok. Guardate rega. Quanto può essere bella. Cioè. E' meravigliosa ragazzi. Meravigliosa veramente. Il gioco non l'ho giocato ragazzi. L'avevo iniziato a suo tempo su PS2. Pensate un po'. Ma mi è stato consigliato di farlo. Il 10. Perché. Ma avete detto che è una trama spettacolare. Con questo regalo ho pagato 15 euro. Non potevo lasciarlo lì. Avendo la fissazione. Ovviamente per le steelbook. Questa rega. Non la vedrete. Perché non l'ho manco aperta. E' stata un regalo. Tra l'altro. Di Alessandra. Che ringrazio come sempre di cuore. L'ho tenuta in cellophane. Ragazzi. Perché tutti i giochi che non ho giocato. Li ho tenuti. Ovviamente chiusi. Include anche tre cartoline. Per cui grazie mille Alessandra. Il gioco di per sé. Purtroppo. Non l'ho potuto giocare. Per cui andiamo avanti. Vabbè raga. Chi non conosce Tomb Raider. Lara Croft. Cazzi mazzi. Avventure. Bla 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 bla. PES. Ovviamente per. Il cui presente. Rodrigo. Che adora PES. Io non gioco a PES. L'abbiamo comprata in Spagna. Era tipo a 15 euro. Essendo amanti delle steelbook. L'abbiamo comprata. E' bella la steelbook. Però la steelbook è figa. Raga ma le steelbook a prescindere sono fighe. Secondo me. E infatti poi ci abbiamo anche questa. 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 Che è meravigliosa ragazzi. Ed è stato un regalo. Anche questa di Alessandra. Perché mi ha regalato appunto Red Dead. In versione standard. Con. Accanto la steelbook. Appunto lei aveva capito. Che c'ho sta fissazioncina per le steelbook. Anche questa. Molto. Molto. Figa ragazzi. Tutta rossa. E il contenuto insomma. Vedete dietro c'è lo sfondo. Cioè. Raga. Spettacolare. Spettacolare. Ultimi. Ma non meno importanti ragazzi. Qui ci abbiamo Death Stranding. Che però vi dirò ragazzi. Questa special edition. Un po' mi ha diluso. Perché hanno fatto la steelbook. Praticamente uguale al cartonato fuori. Io sinceramente. Speravo avrebbero messo un'altra immagine. Però. Ci speravo. Sinceramente. Raga. Di vedere un'altra immagine. Non questa. Però dietro. Raga. Vedete in nera. Cioè. Molto. Molto. Semplice. Ma comunque. C'ha sempre il suo fascino. Però molto semplice. Anche nello sfondo all'interno. Ovviamente. Io Death Stranding. L'ho preso a lancio. Io non potevo. Non prendere la special edition. Ragazzi. Avendo ovviamente. La steelbook. Due parole sul gioco. Meraviglioso. Troppo incompreso. Ragazzi. Se volete avere. Un parere. A tutto tondo. Sul. Sul gioco. Ho fatto la recensione. Per cui. Vi esce. Ultimo. Ma non meno importante. Ovviamente. Ragazzi. The Last of Us Part 2. Che è stato. Nominato. Giusto. Questa notte. Game of the Year. Ragazzi. Si è portato a casa. Un botto di premi. Veramente. Un botto di premi. Sono preso a lancio. Ragazzi. Su Amazon. Però. In steelbook. In edizione limitata. Se non sbaglio. Proprio edizione limitata. Per Amazon. Che come potete vedere. Raga. Appunto. Il cartonato. È diverso. Dalla steelbook. All'interno. Ok. Avete capito. Che voglio dire. Quindi la steelbook. È questa qua. Ragazzi. Davanti c'è. Lì dietro. C'è Joel. Meraviglioso. Ragazzi. Veramente meraviglioso. All'interno. Ovviamente. Ci sono i due dischi. E lo sfondo dietro. E non c'è niente. Se sono sforzati. L'ho pagata 60 euro. Perché Amazon. Perché ti garantisce il prezzo minore. L'ho pagato 60 euro. Regà. Una versione con la steelbook. La standard di regola costava 70. Quindi. Grazie a Amazon. Anche per questo regalo meraviglioso. L'ho giocato. Sì. Mi è piaciuto. Tanto. Sì. Non ci ho fatto la recensione. Regà. Onde evitare. Flame. Perché. È un gioco meraviglioso. Ok. È. Un giocone. Regà. Coi controcazzi. Si è meritato tutti i premi. Che ha vinto. Purtroppo a me. Mi ha lasciato un pochettino. Meh. Io non parlo a livello tecnico. Non parlo. Regà. Di niente. Io parlo proprio a livello di emozioni. Purtroppo. Non so spiegarvi perché. Io ho compreso il gioco appieno. Ho capito tutto il messaggio che c'era dietro. Ma non mi ha lasciato le emozioni che pensavo mi avrebbe lasciato. Cosa che invece col primo. Regà. Mi è successa. Io penso di avere un pelino di più apprezzato il primo. Però è un giocone regà. Compratelo. Straconsigliato. Ok ragazzi. Quindi adesso passiamo alle versioni standard ovviamente. Sulle quali cercherò proprio regà di non dilungarmi troppo. Anche perché in buona parte non li ho giocati come vi ho detto. Perché sennò siamo qua una vita. Ancora incelofanato. Quindi capirete che non l'ho giocato. Dishonored Definitive Edition. Quindi probabilmente conterrà qualche DLC. Non lo so. Ripreciso. Fatto sta regà. Che non so neanche effettivamente di cosa tratta il gioco. L'ho comprato solo perché costava poco e ne ho sempre sentito parlare molto bene. Assassin's Creed Unity. L'ho tra l'altro iniziato ragazzi ma ci avrò giocato dieci minuti e poi non l'ho mai più continuato. Perché Assassin's Creed raga mi ha un po' stufato sinceramente parlando. Tekken 7 ragazzi. Non può mai mancare un Tekken in una collezione ovviamente per avere un bel picchiaduro. Ci abbiamo giocato. Ci ho giocato anche un po' devo essere sincera. Mi piace. Mi piace. Cosa molto importante ragazzi. È in celofanata ma si tratta della collection di The Walking Dead. Quindi contiene se non sbaglio... Ok. Stagione 1, stagione 2, 400 giorni e mission. Contiene queste cose qua ragazzi. E non potevo non comprarla. Costava tipo 20 euro ragazzi. Nonostante io abbia giocato tutte le stagioni di The Walking Dead. Sapete quanto io ci si è appezionata. Quindi lo volevo avere. Appunto sempre sulla linea di The Walking Dead ragazzi. The Walking Dead A New Frontier. Che ho giocato. Ma devo essere sincera raga. Non mi ha entusiasmato tantissimo. Perlomeno non come le altre stagioni. Dopodiché raga. Giocone coi contro maroni. Tra l'altro. Io l'ho comprato poco prima che uscisse se non sbaglio la Game of the Year Edition. Però vabbè sti cazzi. The Witcher 3. Però vedete ragazzi è in celofanato. Non ho avuto mai il coraggio di iniziarlo. Perché sappiamo benissimo quanto duri ragazzi. E quanto sia grosso sto gioco. Però ho sempre sentito dire che è un gioco della madonna. Monster Hunter World. Ragazzi anche questo in celofanato. L'ho comprato perché costava poco. Perché ho sempre sentito parlare stra bene appunto di Monster Hunter. E anche di questo gioco qua. Poi mi piacciono i draghi. Mi piacciono ste cose. E quindi l'ho comprato anche per questo. Nier Automata ragazzi. Sempre sentito parlare stra bene anche di questo gioco. L'ho iniziato. Infatti è aperto. Ci ho giocato 10 minuti. Regà non l'ho mai continuato. Ma questo non perché il gioco non sia bello. Ma perché come vi dicevo regà negli ultimi anni veramente purtroppo. Il mio tempo a disposizione per giocare si è ridotto tantissimo. Quindi sono cose che dovrò recuperare. Ora Izone Zero Dawn. Comprato usato. Quando tra l'altro costava ancora tipo 35 euro. Regà considerate che io i giochi non li pago mai più di 20-25 euro. Quindi lo desideravo veramente tantissimo. L'ho finito. Incredibile ma vero. Ho seguito soltanto la storia principale ragazzi. Ho lasciato le queste secondarie. Mi è piaciuto tantissimo regà. È bellissimo. Anche visivamente è uno spettacolo per gli occhi. Andiamo avanti. Red Dead Redemption 2 appunto. Regalo di Alessandra. Che ringrazio di cuore. Di nuovo sempre ovviamente. In compagnia della Steelbook. L'ho installato. Ci ho iniziato a giocare. Non l'ho continuato. Ma dovrei assolutamente giocarlo. Perché dicono che sia un capolavoro ragazzi. Sia per quello che è il gioco in sé. Sia per la storia. Quindi dovrò rimediare ovviamente. Prima o poi. Altra chicchetta ragazzi. Final Fantasy VII remake. Che ho comprato tipo due settimane fa. Proprio pochissimo tempo fa. Perché ho sempre sentito parlare bene ovviamente di questo remake. Anche se soltanto purtroppo la prima parte. L'ho cominciato. Sto cercando di continuarlo. Quindi di non stare sulla scena degli altri giochi. Anche perché comunque mi sta piacendo. Dicono che sia una figata. Quindi era stato anche candidato. Raga Game of the Year. Non so se ci rendiamo conto. Era candidato a diversi premi. Quindi assolutamente da giocare. Crash Team Racing. Nitro Fueled. È stato un regalo tra l'altro di compleanno. Adoro. Adoro ragazzi. Veramente un bel remake. Secondo me. Per gli amanti dei giochi di macchine. Hanno aumentato la difficoltà. Raga hanno aumentato la difficoltà. Ci ho smadonnato non poco. Effettivamente con sto gioco. Andiamo avanti ragazzi. Astrobot. Rescue Mission. Perché per fortuna. Io c'ho pure il VR ragazzi. E questo l'ho comprato raga. Quando era in super offertazza. 20 euro su Amazon. Perché ho sempre sentito dire. Che era uno dei migliori giochi. In assoluto. Per VR. Quindi non potevo non comprarlo. L'abbiamo pure giocato. Abbiamo giocato qualche livello. Quello è mio però. È bellissimo. È bellissimo ragazzi. È veramente super tenero. Tra l'altro. C'è c'è sto robottino. Che è uno spettacolo della natura. Noi poteva mancare raga. Ovviamente Batman Arkham Knight. Giocato. Sì. Finito. Sì. Incredibile. Ma vero. Però regà. La passione per Batman. Ovviamente si fa sentire. Mi è piaciuto un casino. Mi è piaciuto un casino. Alcuni si sono lamentati del fatto. Che forse troppi spezzoni. Sulla Batmobile. Ma sti cazzi. Regà. È Batman. Non volevate guidare la Batmobile voi? Sì. Parlando sempre di Batman. È nemico dentro. Questo l'ho comprato in Spagna. Regà. Sempre dalla Telltale. Ovviamente io adorando la Telltale. Adorando Batman. Non potevo non comprarlo. Ho iniziato ma non l'ho mai continuato. Sempre per la solita mancanza di tempo. Blablabla. Bloodborne. Che vi dirò. Ho anche iniziato. Ma chiappa anche tantissimo ragazzi. Per le ambientazioni. E lo stile super gothic. Super oscuro. Regà. Super dark. È bellissimo. Ma ovviamente questo l'ho abbandonato. Per questioni più che altro di difficoltà. Perché sappiamo di che cosa stiamo parlando. Ma sarà assolutamente da finire. Pictures ragazzi. Menon Medan. Che ho comprato a lancio. Tra l'altro grazie a voi. Perché avevo fatto una sorta di raccolta fondi. E grazie a voi ero riuscita a comprarlo. L'ho portato sul canale. Sapete già che cosa ne penso. Effettivamente. Poi tornando sempre regà. A Batman The Telltale Series. Questo è il primo capitolo. E poi c'è appunto quello del nemico dentro. Anche questo regalo iniziato non l'ho mai finito. Cioè io me ne vergogno tantissimo regà. Però sapete che io vi dico la verità. Allora For Honor. Che dire. Che dire. Questo regalo l'ho iniziato. E secondo me è pure un gioco che ha del potenziale. Ma non è. Io non credo che sia rimasto molto sulla bocca di tutti. Perché è passato subito nel dimenticatoio secondo me. Ma è un gioco che probabilmente appunto non può piacere a tutti. Don't Starve ragazzi. Che secondo me è un giochino che ha veramente molto del potenziale. E se mi ci mettessi probabilmente mi ci fisserei anche abbastanza. Però non l'ho mai cominciato. L'ho comprato più che altro perché costava solo 20 euro. E per curiosità. E quindi contiene non solo Don't Starve Together. Quindi che si può giocare in due. Ma anche diversi DLC. Quindi per il prezzo regà era veramente con insomma conveniente comprarlo. L'ombra di Mordor. Questa edizione Game of the Year. Che include anche insomma delle cose aggiuntive. Niente di che. Io l'ho pagato penso appunto anche questo soltanto una ventina di euro. L'ho giocato sì. L'ho finito sì. Devo dire che non mi è dispiaciuto ma non mi ha lasciato impresso niente di che ragazzi. Dopo un po' anche lì o fai missioni secondarie o poi t'allarmi insomma ti rompi le palle. Non mi ricordavo manco di avercelo sinceramente nella mia collezione. Dragon Ball Xenoverse. Che ci fa qui? Vi giuro no sto carendo dalle nuvole perché pensavo di averlo venduto sinceramente. E a quanto pare no. C'è. Ok. Io avevo iniziato una serie tra l'altro sul canale ma all'epoca comunque l'avevo preso su PC. Quindi perché l'ho comprato? Sarà stato un buon prezzo regà per avercelo. Io pensando sempre da collezionista più o meno l'avrò comprato. Se qualcuno lo volesse. Vi giuro regà che sono carudare nuvo perché non mi ricordavo di avercelo. Allora. Reso The Tomb Raider ragazzi edizione ventesimo anniversario. Pure questa l'avrò pagata poco probabilmente. Non l'ho manco aperta regà. Ve faccio capire che non l'ho manco giocato purtroppo. Sarà sempre di Lara Croft. Sarà comunque un bel gioco molto probabilmente. Gioco per VR ragazzi The Impatient che tra l'altro se non sbaglio è legato e collegato alla storia di Until Dawn. Quindi sarebbe comunque da giocare. Ovviamente io non l'ho giocato ragazzi e tra l'altro ho un po' paura a giocarlo regà perché se il personaggio cammina. Io purtroppo soffro di motion sickness quindi dovrei farci l'abitudine prima di poterlo giocare. Chi non conosce regà è Plague Tale Innocence perché è stato ovviamente serio sul mio canale. Anche qui avevo fatto una colletta ragazzi una raccolta fondi vi ringrazio perché se ho potuto comprarlo è stato a merito vostro. E l'ho giocato sì ci ho fatto la serie mi è piaciuto sì. State belle pure le meccaniche innovative poi l'ambientazione regà medievale. Adoro adoro a prescindere. E beh siamo al top. Gioco per VR Rush of Blood ragazzi si tratta praticamente di un gioco tipo montagna russa. Però sempre collegato ad Until Dawn quindi è horror fondamentalmente. Non è male uno shooter si spara cioè sono spaventi. Figo non male non male. Allora questi ve li faccio vedere insieme sempre si tratta di collezionismo ovviamente alla fin fine. Perché io i Kingdom Hearts li ho giocati quelli su PS2. Ma come potete vedere regà ho comprato comunque queste edizioni per gusto di collezionismo diciamo così. Quindi l'1.5 più il 2.5 e il 2.8. Quindi fondamentalmente credo che in questi due dischi ci siano tutti i giochi di Kingdom Hearts. Non li ho manco aperti regà sapete perché? Dopodiché PS 2020 ovviamente non per me è stato un regalo. E la prima quarantena. Sì Just Dance ragazzi 2020 l'abbiamo sfruttato durante la prima quarantena regà per cercare di muoverci un po'. Io non ve dico sembro una scimmia insomma con le crisi epilettiche. Until Dawn ragazzi super serie anche questa sul mio canale ovviamente. Giocone giocone horror a scelte per quanto certi dialoghi regà siano imbarazzanti. Ma è figo è veramente figo. Che dire anche qui regà qua alziamo le mani direttamente. Super serie spettacolare anche questa sul mio canale. Remake capolavoro ragazzi mi è piaciuto veramente da morire. Tant'è vero che l'ho pure rigiocato in live sul sito Viola. Per quanto mi è piaciuto regà veramente spettacolare. Remake di Shadow of the Colossus ragazzi che io non avevo mai giocato tra l'altro su PS2. L'ho giocato sì. Che sofferenza. Mi è piaciuto sì vi dirò. Anche se regà uccidere i colossi vi giuro che te fa sentire una merda. Io ve lo assicuro. Confermatevi regà se questa sensazione è stata anche vostra. Perché io vi giuro che ogni volta che davo il colpo di grazia ai colossi. Stavo male. Te fa sentire proprio da merda. Forse proprio in questo era il suo intento regà. Ma bello comunque bello. Un bel gioco assolutamente consigliato. Andiamo avanti. Allora questo ragazzi era incluso nel pack del VR. Non credo che lo giocherò mai ragazzi. Perché soffrendo di motion sickness e non abituandomi ovviamente giocandoci ogni tanto. Non potrei mai umanamente giocarlo regà. Spara tutto in prima persona super frenetico. Lo gioco col VR e dopo due minuti sbratto sul pavimento direttamente. Blair Witch è un horror. Prima persona l'ho cominciato. Sì non l'ho mai continuato porca miseria. Però secondo me potrebbe essere qualcosa di caruccio. Così perlomeno avevo sentito dire. Ultima pila. Ultima pila di giochi standard. Io vi chiedo scusa stiamo andando di fretta regà. Però se no veramente il video dura un'eternità. Darksiders 2 stretta di una Definitive Edition. L'ho pagata solo 20 euro. E' chiusa ovviamente. Non l'ho mai giocato regà. Però ho comprato il 2 perché avevo giocato il primo su PS3. E mi era piaciuto. A maggior ragione perché in questo caso ragazzi. Il cavaliere dell'apocalisse che si impersona è morte. A maggior ragione sarebbe da giocare. Dopodiché regà non vi scandalizzate. Ma qui in mezzo c'è il gioco di Disney Infinity. Ma perché mi era stato mandato da Digital24. Un sito con cui ho collaborato qualche anno fa. Tutto il mega pack ragazzi di Disney Infinity. Con vari personaggi eccetera eccetera eccetera. E' per questo che qui in mezzo non l'ho comprato io. Recep e Clank ragazzi. Io non so se questo si può definire remake effettivamente. O è una remastered. Sinceramente regà questo non lo so. Me lo dovrete dire voi. Del primissimo Recep e Clank per PS3. Ovviamente io l'ho comprato regà. L'ho giocato. L'ho finito. Perché ho sempre adorato Recep e Clank ovviamente. Quindi bellissimo. Veramente bellissimo. Andiamo avanti. Qui ragazzi sta ancora l'etichetta attaccata. Non so se vi rendete conto. L'ho cercato tantissimo. Quando finalmente l'ho trovato usato da GameStop. L'ho preso per 20 euro. Perché non si trovava più. Dopo che era insomma si era sparsa la voce. Che con delle patch con dei miglioramenti eccetera. Era diventato veramente meraviglioso. Però non l'ho mai giocato comunque. L'ho comprato più che altro. Sempre per collezionismo. One Piece. Burning Blood. Burning Blood che secondo me non è manco un gran gioco. È stato un flop. Una delusione. L'abbiamo comprato perché lui raga è stato con One Piece. Pure a me piaceva One Piece. Io pensavo fosse un open world. Invece è un picchiaduro. No un bambù. Quello hanno fatto l'open world di One Piece. Ma pure quello a quanto ho capito è un flop. Quindi se i giochi presi dagli anime a volte sono un po' una merda. Dipende. Comunque andando avanti. Dying Light ragazzi. È un'edizione migliorata. Non so di preciso. Conterrà dei contenuti in più. È incelofanato. Non l'ho mai iniziato. L'ho comprato perché se non sbaglio comunque c'è un gioco di zombie in prima persona. Parkour. Quindi a me piace il parkour. Quindi l'ho comprato per questo. Final Fantasy XV. Aperto. Mai installato. Mai giocato ragazzi. Ma l'ho comprato perché sì. Che dicono sì è un bel gioco. Comunque non è il solito. Final Fantasy. Bla 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 bla. Resident Evil 7. Che tra l'altro è compatibile col VR. Quindi si potrebbe giocare anche col VR. È incelofanato. Perché regà. Perché io l'ho comprato dopo. Che io ci ho fatto la serie. Sul canale. Perché lì allora ovviamente l'avevo preso per PC. Per puro collezionismo. L'ho voluto comprare anche. Per la Play. Andiamo avanti ragazzi. È incelofanato. Ma ci tenevo comunque a comprarlo. Perché voi sapete benissimo. Che ragazzi. Io ho portato Unravel come serie sul canale. Un giochino veramente. Molto tenero. Molto bello anche da vedere. E quindi mi piaceva questo bundle. Che include anche Unravel 2. Che si può giocare anche in due. Tra l'altro in cop. Molto consigliato. Sono giochi molto molto tenere ragazzi. Qui c'è Skyrim ragazzi. Però è la versione VR. Quindi è proprio richiesto il VR. Per giocarlo. L'ho installato ragazzi. Ci ho giocato 5 minuti. L'ho dovuto spegnere. Perché veramente mi stavo per vomitare ragazzi. Mi è venuta una nausea terribile. Per giocare un gioco del genere in VR. Bisogna abituarsi veramente tanto. Perché è un gioco lunghissimo. Vabbè lo sappiamo tutti. Non so se mai lo giocherò. Effettivamente. Grand Turismo. Ho comprato solo perché Grand Turismo ragazzi. L.A. Noire. Io regà l'ho comprato. Perché io all'epoca lo compravi ragazzi. Anzi mi fu regalato per PlayStation 3. Quando uscì. Lo giocai. Lo adorai regà. È bellissimo. È della Rockstar. Ovviamente Rockstar non derude mai. È ambientato regà nella Los Angeles. Negli anni 40. Le ambientazioni sono spettacolari. Ma anche lo stile di gioco regà. È tipo simile investigativo. Anche bisogna fare indagini. Trovare indizi. Andare ad interrogare persone. Capire se stanno mentendo oppure no. Dalle espressioni dei volti. Cioè regà. È una cosa che per l'epoca era una bomba. E secondo me lo è tuttora. Per cui io ve lo straconsiglierei. Eh beh. Che dire regà. Una pure delle serie secondo me più belle regà. Ma io direi che questo di Evil Within 2 ragazzi. Mi è rimasto tanto nel cuore. Io devo comprare il primo. Il primo per PS4. Perché io l'avevo giocato su PC. Per pulo collezionismo me lo dovrei comprare regà. Perché ho adorato i di Evil Within. Sono giochi horror. In terza persona regà. Action anche. Sono spettacolari. Io li adorati. Seb. Forever. In the heart. Resident Evil 4. Io l'avevo comprato appunto per PS4 regà. Infatti è incelofanato. Avevo detto che magari prima o poi ci avrei fatto una serie. E così avevo detto. Però ci abbiamo cominciato la serie regà. Sul sito Viola. In live. Perché mi è stato regalato per PC. Quindi comunque bene così. Perché per collezionismo regà. C'è va bene così. L'avevo pagato tra l'altro 20 euro su Amazon. 15 euro. Questi ragazzi ve li faccio vedere insieme. Metro Redux. E Metro Exodus. Sono sparatutto in prima persona. Che però mi sono sempre stati straconsigliati. Questa è una raccolta regà. Diciamo così. Perché include sia Metro 2033. Che Metro Last Light. Quindi sono due giochi. E poi c'è questo. Appunto Metro Exodus. Sono incelofanati regà. Non li ho mai aperti. Anche perché tra l'altro comunque i giochi sparatutto in prima persona. Non sono proprio fra i miei favoriti. Quindi questi probabilmente saranno gli ultimi che giocherò. Ma non per importanza. Ma per gusto. E tra l'altro regà li ho pagati un cazzo. Questo qua. L'ho pagato 10 euro nuovo su Amazon. E questo idem. Una decina di euro su Amazon. Regà li ho beccati in offerta. Quindi con 20 euro. Mi sono fatta tutti i metro. Insomma. E mi sono comprata tre giochi. Ultimi. Ma non meno importanti. Regà. Hellblade Senua Sacrifice. Io. All'epoca lo giocai su PC. Lo sapete benissimo. Tra l'altro il computer non ce la faceva regà manco a reggerlo. Quindi noi non l'abbiamo manco visto nella mia serie. Al massimo delle sue possibilità grafiche. La serie regà. Mi è piaciuta da morire. È un gioco meraviglioso. Oserei dire. Non tanto per magari le sue dinamiche di gameplay. Perché magari qualcuno potrebbe venire mia dietro. Dopo un po' diventa ripetitivo. Regà. In questo gioco veramente non bisogna pensare ai momenti di fighting. Diciamo così. Di combattimento. Ma concentrarsi solo ed unicamente sulla storia. E su quello che sono stati capaci di fare in questo gioco ragazzi. È meraviglioso. Infatti questo l'ho comprato dopo. Che ho giocato la serie. È uscito dopo. In versione PS4. Perché non è mai uscito in versione fisica ragazzi. All'inizio. Non potevo non comprarlo ragazzi. Tra l'altro questo è la standard. È vero. Ma c'è il cartone intorno. L'ho pagato 25 euro credo. Se non sbaglio. Tra l'altro quindi manco tanto. Ma non poteva mancare ragazzi. Nella mia collezione. È un gioco che vi straconsiglio. Tra l'altro ambientazione tipo non rena ragazzi. È meraviglioso. Meraviglioso. Assolutamente da giocare. Da vivere. Oserei dire. Come poteva mancare ragazzi. God of War. È stato un regalo. Tra l'altro anche questo. Bellissimo. Che se può dire ragazzi. È un gioco coi contromaroni ragazzi. Compratelo. Giocatelo. Anche qui. Tra l'altro mi sono lasciata per ultimo. Dove cos'è ambientazioni simile non rene nordiche. Cazzi mazzi regà. È bellissimo. Ho giocato tutto di un fiato questo. Giocato. Finito. Adorato ragazzi. Veramente veramente bellissimo. Ci sono certi momenti che mi hanno lasciato senza fiato. Regà. È meraviglioso. Assolutamente da giocare. Da comprare. Ultimo. Ultimo. Ma non meno importante. Mi lo vuoi far vedere? Regà. Ebbè siamo al top. De che siamo a parlare. Ultimo gioco sfornato da quei pezzi di merda della Quantic Dream. Ragazzi Detroit. Become Human. Cioè che cosa ci può stare a dire regà? Ho fatto la serie sul canale e non potevo non farci la serie. L'ho comprato a lancio. Anche se ci sono state dei casini poi eccetera. L'avevo comprato in Spagna. C'era solo in spagnolo. L'ho dovuto ridare indietro. L'ho dovuto comprare da Amazon. Farmelo arrivare da Amazon Italia. Ragazzi. È successo un casino? Rigiocato in live pure. Rigiocato anche in live. Su YouTube. Però su YouTube. Ovviamente. Beh è bellissimo. Regà. Io penso sia uno dei giochi veramente che. Quando mi chiedete quali sono i tuoi giochi preferiti. Sono questi regà. I giochi preferiti. Ok. Cioè questi regà. Questi. 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 Questi qua. Questi. Cazzo. Non basta. Non mi bastano le mani. Sono questi regà. I giochi. Ma no. Grazie. Ma no. Per mostrarve ne sono alcuni ragazzi. Sono questi. I giochi che ci piacciono. Che mi piacciono. Perlomeno che piacciono regà giocherina. Giochi che hanno belle storie. Ok. Regà. Sono questi i giochi che piacciono a giocherina fondamentalmente. Quando mi fate sta domanda. Giochi che indipendentemente. Attenzione. Indipendentemente dal genere. Indipendentemente dalla grafica. Indipendentemente dall'ambientazione. Attenzione. Perché certe persone regà. Si fissano sulla grafica. Si fissano sul gameplay. Si fissano sul genere. Si fissano su tante cose regà. Che secondo me. Devono passare in secondo piano. Quando abbiamo a che fare con belle storie. Esempio lampante. Secondo me The Last Guardian. The Last Guardian ragazzi. Per esempio. È un esempio super lampante. Perché? Perché è un gioco regà. Che per gameplay. Mi ha fatto smadonnare. Ragazzi. Ma veramente smadonnare. Poi ve ne parlerò. Più nello specifico. Quando faremo il video. Per le collectors. Regà. Io non ho smadonnato. Quasi mai. Su un gioco. Come su The Last Guardian. Per il gameplay. Comandi. Anzi più che altro. Comandi regà. A certi momenti. Veramente. Ho rischiato di rompere il pad. E a me non mi è mai successo regà. Ma. La storia. La storia. Regà. Il finale. Regà. Ho pianto. Tutto. Come una merda secca. Regà. Su quel finale. Quindi questo per farvi capire. Che io perlomeno regà. Non. Mi fisso mai. Su genere. Su gameplay. Su grafica. Menchie meno regà. Perché molte persone. Oggigiorno. Si fissano sulla grafica. E secondo me. Fanno un errore regà. Perché è vero che. Oggigiorno. Comunque. Quei mezzi che abbiamo. Da un lato. È come se. Pretendessimo. Tra virgolette. Che un bel gioco. Abbia una bella grafica. Però regà. Quanti bel gioco. Abbiamo giocato. Tanti anni fa. Che c'hanno una grafica. Di merda. Ma ci hanno lasciato emozioni. Che ancora oggi. Ci ricordiamo. Quindi. Io non ho un genere preferito. Ragazzi. Questo per rispondere. Sempre a tutte le persone. Che mi chiedono. Ma quali sono i tuoi giochi preferiti. Io non ho un genere preferito. Non mi fisso su un genere. Non mi fisso su queste cose qua. A me piacciono tutti i videogiochi. Ragazzi. A noi ci devono piacere. I videogiochi. Punto. E condividiamo. Tutti quanti. L'amore. Per i videogiochi. Quindi. Tra l'altro. Ragazzi. Io ho anche qualche gioco. Digitale. Effettivamente. Che adesso non ricordo. Nello specifico. Però. Se qualcuno di voi mi sta per fare la domanda. Ma quindi giocherina. Tu sei per i giochi fisici. Eh. Io vi dirò. Di sì. Perché. Secondo me ragazzi. Avere fisicamente. Comunque. Tutta. Tutto sto popò di roba. È un'altra cosa. Ragazzi. Cioè. A me personalmente. Perlomeno. Regà. Da molta. Molta più soddisfazione. Vedere. Gli scaffali. Con tutte queste belle cose qua. Sinceramente. Poi. Che mi venite a dire. Eh. Ma il futuro. È del. Dei giochi digitali. Io spero ragazzi. Con tutto il cuore. Che continueranno. A fare i giochi fisici. Perché se perdiamo. Pure l'essenza. Regà. Di poter dire. Tengo in mano. Uno dei miei giochi preferiti. Secondo me. Si perderà. Tanto. E quindi. Che dire. Regà. Allora. Con tutto questo. Super bel popò di roba. Che è qua. Non metto anche il resto. Regà. Se no. Veramente. Qua. Non ci vediamo più. Io. Vi ringrazio. Veramente di cuore. A tutti. Regà. Per aver reso comunque. Questo video possibile. Perché senza il vostro supporto. Ovviamente. Con i like. Questo video. Non sarebbe stato possibile. Io spero. Se è stato di vostro gradimento. Probabilmente. Regà. Durerà. Un'eternità. Ma sapete. Che io. Certe volte. Poi. Mi perdo un po' in chiacchiere. Ma spero di avervi fatto comunque. Un po' di compagnia. Fatemi sapere. Regà. Che ne so. Anche i vostri pareri. Su qualcosa che avete visto. Su qualcosa che non vi è piaciuto. Su. Il discorso in generale. Che abbiamo fatto sui videogiochi. Aspetto tutti i vostri pareri. Ovviamente. Ragazzi. Qua sotto in commento. E vi ricordo. Che al raggiungimento. Dei 200 like. Faremo un video speciale. Sui contenuti. Solo ed esclusivamente. Delle collectors edition. E delle mie special edition. Di tutte. Regà. Le console. Grazie veramente ancora di cuore. A tutti quanti. Regà. Per il supporto. Che comunque. Mi dimostrate sempre. Vi voglio un mondo di bene. Regà. Io vi mando un abbraccione. Un bacione. E ci vediamo al prossimo video. Ragazzi. Ciao.